Da settimana prossima sarà nuovamente accessibile al traffico Corso Vittorio Emanuele interdetta fino a questa settimana a causa degli interventi sul sottosuolo che era in cattive condizioni. Durante i lavori è stata inoltre trovata anche una perdenza idrica. Sostituite le basole del tratto stradale danneggiate dal transito dei mezzi. I commercianti della via attendono con ansia la riapertura viste le criticità del momento. Su via Berengario Gaetani ulteriori interventi sono stati effettuati ed altri ancora sono in corso. Gli interventi che hanno avuto una durata di circa 15 giorni lavorativi hanno così ripristinato il manto stradale nei punti dove erano presenti diverse criticità.